Sono arrivate questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità a Roma le 47.000 dosi di vaccini, Moderna, che verranno distribuite alle regioni nelle prossime ore, con i mezzi messi a disposizione da posti italiane. Sarà data priorità ai territori con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Ora si attende il via libera di Ema anche per AstraZeneca, un via libero che dovrebbe permetterci, spiega Zaia, di fare più vaccinazioni di massa. In quattro mesi dovremmo comunque riuscire a farlo, se ne facciamo un paio di milioni ogni due mesi, quattro milioni in quattro mesi. Potrebbe essere verosimile se oggi avessimo un magazzino che per l'estate, inizio d'estate, si sia fatto sostanzialmente il giro di boe. Vaccinazione in Veneto arrivato al 96%, gli over 70 nel frattempo saranno immunizzati entro aprile. Secondo Zaia, sentiti il ministro Speranza e il commissario Arcuri, non ci sarebbero problemi per la fornitura. Il tema di un virus mutato è una realtà e la preoccupazione è reale. In Veneto un caso da studiare, quello di una famiglia di tre persone distrutta dal virus. Abbiamo avuto una segnalazione di tre familiari, 52 anni terapia intensiva, una quarantina d'anni un decesso e il terzo familiare terapia intensiva. Sono delle cose inspiegabili. E ho chiesto subito che si vadano a recuperare i tamponi di questi tre cittadini per provare a sequenziare e capire se c'è qualcosa di diverso. Nel frattempo in Veneto la curva dei contagi ha registrato una lieve flessione. Se andiamo con questo dato sicuramente siamo i più alti d'Italia, ma la nostra incidenza è del 4%, la media nazionale sarà del 14% e ci sono un sacco di regioni che sicuramente hanno incidenza più alta. Il cambio di rotta però può essere repentino, non è terrorismo, tuona Zaia. Se scegliessimo un libera a tutti la conseguenza sarebbe drammatica. Non c'è una sanità al mondo che non vada in crash, che non vada allo schianto davanti a una situazione incontrollata. Restano sull'altro fronte le difficoltà delle imprese, chiuse da mesi, ribadita al governo la richiesta di provvedere ai ristori in contemporanea al nuovo DPCM. Di certo che il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato da ristori veri, solidi, alla tedesca. Un DPCM che stando alle ultime riunioni dovrebbe contenere una nuova indicazione sulle fasce, quella delle regioni ad alto rischio. Anche di questo si parlerà nel nuovo vertice governo-regioni previsto giovedì mattina alla vigilia del documento finale.